Resta in carcere il 28enne di San Salvo, fermato a poche ore di distanza dall'omicidio di Albina Paganelli, la pensionata di 68 anni, uccisa a coltellate il 14 agosto scorso, intorno alle 2.30, nella sua abitazione nel centro di San Salvo. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Vasto, Stefania Itzi, al termine dell'udienza di convalida del fermo di polizia giudiziaria, contestato al ragazzo con l'accusa di omicidio volontario aggravato e rapina. Vito Pagano rimane ristretto nella casa circondariale di Torresinello. Il magistrato si è riservato di decidere in ordine alla misura cautelare entro i prossimi giorni. Intanto ad ascoltarlo in udienza c'erano, oltre al GIP, i sostituti procuratori Enrica Medori e Giancarlo Ciani. Pagano è assistito legalmente dagli avvocati Clementina De Virgilis e Fiorenzo Ceri. La notte, tra il 16 e il 17 agosto, era stato invece scarcerato il 31enne di nazionalità rumena, residente a San Salvo, Gelu Kelmus. Per ora, quest'ultimo, difeso dagli avvocati Giuseppe Piserchia e Andrea Chierchia, resta indagato per il delitto, ma a piede libero.